Grazie a tutti. La persona che per primo ha creduto a questo progetto di Dennis e che ha lavorato tanto, non c'è ancora, però lo voglio citare da subito perché se lo merita, che è l'assessore allo sport, Fulvio De Benedetti. Non è facile essere assessore allo sport e dare fiducia al bodybuilding. Vi ringraziamo per la fiducia e speriamo di rendervi orgogliosi di noi. Ci mancherebbe. Con grandissima passione. Quindi grazie dell'impegno, grazie della manifestazione, grazie a voi di essere venuti, sperando che Bordighera vi sia piaciuta e che possiate tornare. Grazie di cuore davvero. Vogliamo fare un post-down? Ok, allora tutto a posto ragazze, un bel post-down! La numero 5, tallone, Ilaria! Lato destro ai giudici. Di schiena. La numero 5, tallone, Ilaria! Grazie! Grazie.